Guarda, sono venuti un inedito. È venuta una persona da me che ha chiesto un fallo e sicuramente tu glielo concederai. Mario, abbiamo un box? Ok? Aspetta un attimo, mi devi dare un cucino di mezzo. Elena, aspetta un attimo qui. Allora. Allora, io so che voi avete scelto... Eccolo qua, ci sto. Ok, allora aspetta un attimo. Nel frattempo io ti voglio donare questa medaglia. Ti ricordo, facci una foto, Roberto, e voglio ringraziare te e i tuoi alunni per la partecipazione. Ti ricordo, questo è un box trotta, eh? Trotta, trotta. Allora, il signore qui non vuole dire il nome, la maestra è la napolese, la conosciamo, il snor Nicola? Ok, quindi vi fate questo bel box insieme. Benissimo, applauso. Arribano, fate questo bel box, vai! Applauso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.